Buonasera e ben ritrovato, buonasera al tuo appuntamento con la voce delle istituzioni, ha il piacere di avere in studio il sindaco di Rocca Pietro e Andrea De Bernardina che saluto e che ringrazio per la disponibilità e per il tempo che ha trovato di venirci a trovare in studio. L'argomento principe purtroppo è sempre quello, è il Covid che si può vivere in modo differente a seconda delle zone nelle quali si ha la residenza, ad esempio nel comune di Rocca Pietro quali sono i problemi che avete dovuto affrontare che magari da altre parti potrebbero essere marginali? Il problema principale di Rocca Pietro è quello di tutta la parte alta della provincia, quindi il turismo che fatica ad avere la marcia giusta. Ricordo che la scorsa primavera la stagione è finita il 2 di marzo, quindi abbiamo perso tutto il mese di marzo che è importantissimo per noi e parte del mese di aprile. Poi è vero che l'estate è passata come un'estate piena di gente dove c'è stata l'invasione, ma all'invasione spesso non è corrisposto un'entrata adeguata. Cioè era gente che spinta a venire per tutta la questione Covid, hanno scelto la montagna piuttosto che il mare, ma anche poco convinti e tutti un pochino attenti nello spendere. Quindi il mese di agosto è andato molto bene, il mese di luglio, il mese di settembre direi sotto tono. Il problema è adesso all'entrata della nuova stagione che almeno una parte della stagione mi auguro che possa essere fatta perché sarebbe importantissimo per girare un po' i soldi e tenere in piedi le attività. Una cosa che mi hanno fatto notare due amministratori è che sì c'è stato grande afflusso, il che vuol dire anche tante immondizie da dover smaltire perché i turisti pensano sì al loro benessere ma non pensano al benessere del territorio. Quindi costi che si sono aggiunti? Ma quello sicuramente è anche una problematica. L'agosto avevamo davvero problemi anche di parcheggi, di gestione delle strade perché era davvero un affollamento eccessivo. Devo dire che aver fatto l'invernale fino alla fine di febbraio e essere riusciti a salvare in qualche maniera l'estate, in qualche modo si è aiutato tutta l'economia a stare in piedi. Basta non perdere un'intera stagione, sarebbe davvero critica. Allora si guarda in prospettiva quello che sarà la stagione invernale. Esatto, credo che i danni sarebbero superiori a quelli che ha fatto Vaia, indubbiamente. Senta, è una magra consolazione ma i problemi con le scuole e l'affollamento non c'è perché mancano alunni. Voi avete la materna e l'elementare? L'elementare. Materna sottoguda, elementari a Roccapietore, edifici che ci vengono dal passato quindi soprattutto l'elementare è un edificio grande, i bambini sono pochi, in calo e in continuo, quindi non abbiamo problemi di distanziamento, non abbiamo problemi di trasporti, questo è per l'amor di Dio in questo momento anche un vantaggio, certo che il problema è sostanziale col calo demografico fortissimo che ha avuto il comune di Rocca e tutta la parte alta della provincia. Io sono diventato sindaco nel 2009 e il comune aveva 1400 abitanti, adesso siamo sotto i 1200, quindi se andiamo in percentuale è una perdita enorme. Ma non c'è un'inversione di marcia perché molti hanno riaperto le seconde case, molti guardano al territorio montano come un'area, un'isola felice dove anche se c'è il contagio è alto però può essere governato più facilmente che non nelle grandi città. Ma l'ufficio tecnico di Rocca ne è testimone, c'è una richiesta enorme di case da acquistare, di case da ristrutturare, gli stessi fienili che sono la nostra tipicità importante, c'è una richiesta di ristrutturazione per farne delle abitazioni, insomma il Covid ha in effetti mosso un po' l'economia edilizia diciamo. Da qui a pensare che il nucleo familiare si trasferisca definitivamente, viva il territorio, mandi i bambini a scuola e frequenti costantemente giornalmente il territorio, ce ne passa spesso perché un conto è fare un mese, un conto sul territorio venuti da fuori e questi sono una grande ricchezza, indubbiamente. Lei si è speso molto per rimettere a posto i serrei di sottoguda, per la verità già precedentemente non erano mancati scontri anche con chi non voleva ad esempio il pagamento dei serrei di sottoguda, lei ha avuto più che ragione visti i risultati. Adesso parte la ristrutturazione, 10 milioni che è una cifra enorme per il territorio, lavori che inizieranno? Complessivamente sono 11 milioni stanziati, qui va ringraziato tutto l'apparato regionale perché ha visto i serrei di sottoguda come anche una grande sfida, quindi dal commissario Zaia in giù, all'assessore Botacin fino agli stessi dirigenti, abbiamo tutti quanti visto i serrei a livello provinciale come una grande sfida dove la provincia di Belluno deve fare bene perché ci sono 7 imprese bellunesi che hanno vinto l'appalto e credo l'unico caso dove i bellunesi hanno fatto squadra, hanno fatto squadra per vincere un appalto, c'è una delle imprese a capofila, le altre 6 seguono, i progettisti stessi, il direttore lavori è di Padova, è un ingegnere di Padova ma tutta la catena che viene dietro di lui sono tutti bellunesi, quindi dall'idraulico al direttore di cantiere, al direttore operativo, al direttore a sicurezza, sono tutti bellunesi, quindi è una grande sfida bellunese. Quando partono i lavori? Partono adesso, dopo i primi lavori di messa in sicurezza dei versanti, c'è stato un problemino alla strada di cantiere che era pronta, primo 1 e 2 di agosto una mini alluvione, alluvione ha di nuovo travolto tutto quanto, però si persegue chiaramente l'obiettivo finale che è la sistemazione, quindi in primavera 2021 partiranno il grosso dei lavori. Quindi salterà comunque l'estate del 2021 e bisognerà andare al 2022? E salterà anche l'estate 2022 perché i lavori si faranno, io mi auguro che per la primavera 2023 si possa pensare di riaprire. Visto che ha accennato al 1 e 2 di agosto c'è stata questa ondata di maltempo che ha colpito la Valle Ombretta che sarebbe quella del rifugio Faglier e della Malga Ombretta. La Valle Ombretta è per noi un gioiello, per il comune Irocca sicuramente, ma io credo per tutte le Alpi è una delle zone più belle perché è particolare, in quota c'è la Malga, il rifugio Faglier che è sotto la parete sud della Marmolada, zona alpinistica di estrema importanza. L'1 o 2 di agosto è stato oggetto di una, ripeto, io la chiamo mini alluvione pensando a Valle, ma è stata una vera e propria alluvione che ha fatto danni proprio grossi. La strada è stata messa a posto, devo ringraziare i servizi forestali per l'attenzione che hanno avuto, adesso si sta lavorando al ponte giù al Rudalberg, sopra la Malga Gran Pian, perché ce l'aveva portato via completamente, insomma. Che è quello di attraversamento, d'altro canto lì è dove si è scatenato il finimondo, c'erano le macchine che sono state distruttate. Esattamente. Visto che ha accennato a Malga Gran Pian, abbiamo letto di una nuova gestione, peraltro di due talentuosi giovani, davvero molto giovani, poco più di 30 anni. Anche in quel caso bellunesi, loro vengono dalla Mon, grande entusiasmo, hanno ristrutturato una Malga che è stupenda, diventata, dentro, io l'ho vista l'altro giorno, è davvero bellissima, ha fatto un grosso investimento, il Comune gli è andato incontro per tutto quello possibile perché l'interesse è comune di farla gestire nel miglior modo possibile e io faccio tanti tanti auguri ai due ragazzi. Ma abbiamo previsto anche di fare un punto di ristoro? Assolutamente sì, è diventato... Così lo pubblicizziamo già in anticipo? È diventato quasi un ristorantino di classe dentro, cioè da quello che era la Malga prima adesso possono puntare a fare davvero bene. Restiamo in zona Malga Ciappella, una problematica che si trascina ormai da molto tempo è quella degli impianti che porterebbero verso Portavescovo e quindi verso il Fedaia, che sono stati rovinati da una slavina e da allora non si è più riusciti a far ripartire nonostante molti lavori fatti. Rocca viene ricordata per Vaia, siamo diventati tristemente famosi per quell'evento, ma ricordo che il 2 febbraio 2014 e tutto l'inverno 2014 siamo stati oggetto di nevicate eccezionali, centenarie. Una valanga che non scendeva più dal 1916 ha travolto la seggiovia che porta al passo Padon, rovesciando alcuni pali di sostegno, danneggiando lo ski lift a Ray 2 e Vaia ha danneggiato lo ski lift a Ray 1. Insomma, dal 2014 i due ski lift di collegamento fra la funivia e la capanna Bill non ha più funzionato, venendo a mancare il caposcuola che è uno dei più belli. Sì, perché è già un lungo percorso molto morbido con una inclinazione molto leggera. La nostra scuola del ski è costretta ad andare a fare scuola ad Alleghe con tutti i problemi di spostamenti dei clienti eccetera, creando un grosso problema. C'è un progetto importante della nuova gestione della società Padon, che è in capo al giovane De Battista di Arabba, al quale faccio tantissimi auguri di poter lavorare al meglio. Certo che il Covid non sta aiutando nemmeno lui, nel senso che è un investimento importante di 7-8 milioni di euro. C'è anche la possibilità di avere un contributo regionale, hanno fatto la richiesta. Speriamo che tutto vada bene, che possano essere sostituiti gli skidif con una cabinovia. C'è una zona che a me piace molto particolare, che è la zona di Laste, sopra di Gonera. E lì voi avete lanciato questa idea dell'albergo diffuso, un ristorante che è aperto, camere da recuperare e poi tutto lo sviluppo della vallata che arriva fin su in cima a Forcella-Laste. Sì, Malgalaste è la zona della Mondalaste e poi volendo si può arrivare anche a Passo Fedaia o scendere giù verso Davidino, con i problemi di sentieri post-Vaia bisogna un po' informarsi prima di andare ovunque. Però è una zona stupenda, c'è un panorama che è... Sì, che poi è frequentata anche in inverno, perché per arrivare su... Sì, perché quando la strada è chiusa la utilizzano anche gli sci alpinisti per esempio per andare su. Il ristorante ha aperto per fortuna già prima dell'estate, si è fatta, io credo, una buona... sono riusciti a fare una buona stagione, i gestori sono di Padova, è una coppia di Padova ai quali anche a loro auguro buon lavoro, il ristorante Alaste, bar-ristorante è bellissimo, è una struttura che vale la pena andare a vederla solo per come è stata fatta e dovrebbe funzionare da reception anche per le strutture attorno che stanno per essere messe a posto e stanno finendo i lavori adesso. Il momento è di suggerire a coloro che magari non vogliono andare a camminare, anche se la tentazione avviene perché là vicino c'è il Sass de Rocha, che è un posto molto particolare, ma il promontorio sul quale si trova Alaste offre una visuale per sotto la valle andando anche verso Selva e Colle Santa Lucia, davvero incredibile. C'è un punto fra il Sass della Murada e il Sass de Rocha che si scende giù e passa in mezzo, il sentiero passa in mezzo a questi grossi massi, probabilmente di origine glaciale sono arrivati lì credo perché è roccia della marmolada quella, quindi con formazione non dolomitica, ma insomma io non faccio il geologo, ma c'è un punto dove c'è un'acustica incredibile, sembra di essere in una chiesa sotto l'altare. E tutto questo faceva parte di quel grande progetto di sviluppo turistico che era Unesco Marmolada? Il Marmolada Unesco l'abbiamo pensato invece sulla zona in Malga Ciappela, proprio per andare incontro a queste problematiche derivate dal post-Valanga 2014, sono 5.340.000 euro di investimento ai quali dobbiamo subito togliere l'IVA, le spese tecniche, faremo lavori per circa 4 milioni di euro, i progetti sono stati presentati in provincia, hanno bisogno di essere un po' rivisti, lo stiamo facendo e procediamo anche lì. Le chiedo un esercizio di sintesi perché il tempo che abbiamo è sempre poco, qualcuno mi ha chiamato per invitarmi e sollecitare una sua risposta riguardo ai lavori della Bosco Verde che è un'area nella quale lei molto scommette, perché dicono se non sono fermati i lavori, che cosa fanno? Lavori fatti in due tranche del Fondo Comune di Confine, quindi 500.000 e 500.000, sono due annualità diverse, purtroppo la gente fa fatica a capire queste cose ma abbiamo finito la prima tranche e i lavori sono terminati ma il parco non è pronto, perché c'è bisogno della seconda tranche, c'è tutto l'iter per far partire i lavori, in primavera partiranno anche quelli, è un po' difficile per il cittadino e ammetto che faccio fatica anche io a capire a volte. I ritardi burocratici. I ritardi burocratici, tutto l'Ambra da anche questo paese ci fa fare a volte. Volevo terminare con un pensiero al lago di Alleghe, perché c'è un grosso lavoro fra Caprile e Alleghe, lato Rocca, quindi zona di Santa Maria delle Grazie, con innalzamento dell'argine, stiamo facendo tutta la scogliera, è ben visibile tutto il lavoro che si sta facendo, lavoro immane, quasi 10 milioni di Euro anche lì. E che servirà naturalmente a mettere in sicurezza tutta questa zona e soprattutto a fare in modo che non si porti via dell'altro terreno. Una piccola notizia positiva, abbiamo sistemato anche un pochino la strada per Caracoi, asfaltandola dopo le numerose polemiche, ma andremo a fare una strada che da Pezzè sale a Caracoi che sarà il bypass importante per la frazione. Sì, anche questo è un altro punto particolarmente panoramico e da lì si può arrivare fino al Sasso Bianco, giusto? Esattamente. Un po' pendente la salita. Allora abbiamo risolto il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Andrea De Bernardina, sindaco del comune di Roccapietola, che vi invito a visitare. Dall'inizio fino alla fine ci sono tantissimi bei posti, tantissimi bei paesi e frazioni da conoscere, soprattutto passeggiate da fare. Grazie per la vostra attenzione e buona serata. Grazie per la visione!